Oltre 300 grammi di cocaina nascosta nel contatore della luce di un locale di Montevarchi. A trovarla e sequestrarla sono stati gli uomini della Guardia di Finanza della Compagnia di San Giovanni Valdarno. L'operazione delle Fiamme Gialle è stata portata a termine lo scorso mercoledì nell'ambito dei servizi a contrasto dello spaccio di droghe. I controlli dei militari si sono così concentrati nell'area di Piazza Vittorio Veneto e della stazione ferroviaria. In azione anche le unità cinofile che hanno passato al vaglio tutta la zona. È stato poi proprio il fiuto di un cane ad indicare il vano dove era nascosto il panetto di stupefacente, 350 grammi circa, di cocaina. Per il titolare del bar è così scattato il fermo e ieri mattina è stato processato per direttissima. Il giudice ha convalidato l'arresto ma non ha applicato la custodia cautelare in carcere richiesta dal pubblico ministero. L'uomo è stato rimesso in libertà con la misura cautelare dell'obbligo di firma in attesa del processo. L'imprenditore ha comunque respinto ogni addebito sostenendo che la sostanza non era sua e di non sapere chi l'avesse nascosta all'interno del contatore.